Sono esclusivamente proiettato a ottenere il massimo da questo gruppo insomma per coronare fa diventare una stagione molto molto positiva, una stagione straordinaria. Poi il resto credo che ci sia tempo per poter prendere in considerazione tutti i discorsi eventuali di programmazione per la prossima stagione, dipenderà molto tanto da quello che vorrà fare la società, che vorrà fare la proprietà perché è innegabile che ci sia un certo tipo di percorso da parte di tutti e quello che è partito quest'anno con l'Arezzo credo che ci siano, che sia solo l'inizio, credo che ci siano le basi per poter dare continuità, però poi dopo è chiaro che ti devi confrontare con la proprietà e con la parte dirigenziale che è più a contatto con lo staff techico. Lei resterebbe qua? Sì sì ma... Anche se non si fa senza riuscire comunque... Certo ma poi dopo dipenderà, sì ma dipenderà poi dopo da che cosa, da quali sono i programmi, da quali sono se ti cerca qualcun altro, se hai la possibilità di salire di categoria perché ti cerca l'altra società, sono tante le situazioni da dover valutare, da dover mettere sul piatto della bilancia quando vai a fare delle valutazioni del genere, però fondamentalmente ti dico sì alla tua risposta, cioè alla tua domanda, ti dico sì perché hai la possibilità di continuare a crescere, per continuare a crescere ti devi migliorare le strutture, devi andare a migliorare degli aspetti partendo già da una base solida, partendo già da quello che è stato costruito quest'anno e vi posso assicurare che non è poco.